Voglio ringraziare la mia squadra, non posso farlo senza voi, è stato molto speciale per me, questo è il mio primo WTA 250 champion, mi ricordo quello. Grazie a tutti quelli che sono venuti a tifare questa sera, non importa per chi ti piace, l'atmosfera è stata bellissima, vi voglio bene. And one more to go, the last one I want to thanks also to the physio, because they work really hard, I'm almost two or three match the latest, and they're still working for us, and also thanks for all the sponsor here, you give such a great tournament, and I won my first WTA match here, and also first WTA title, but you probably don't know, I also won my first ITF champion in Italy. Un ringraziamento ai fisioterapisti che ci accudiscono dalle prime ore del giorno alle prime della notte, forse non lo sapete però qui ho vinto la mia prima partita, qui vinco il mio primo torneo, e in Italia ho vinto il mio primo trofeo ITF, è un posto speciale.